Con i campioni regionali Under 13 3x3, Tonno Calipo protagonista anche qui a Castrolibero, Capitano Simone Barbuto, David Ascugliari, Lorenzo Iorio, Gian Piero Fiorillo, i protagonisti di questa bellissima vittoria, un nuovo traguardo raggiunto, Simone che sensazione hai provato? Beh, diciamo che sono felicissimo per la vittoria, anche perché è da un anno che aspettiamo questo momento dopo la sconfitta dell'anno scorso e sono rimasto pure più sorpreso dal fatto che siamo riusciti a fare una rimonta che manco io mi sarei mai aspettato e devo dire che sono soddisfatto al massimo. Davidas, anche tu c'eri l'anno scorso, dopo quella vittoria sfumata in finale contro la Imaimami, quest'anno invece è arrivata tra virgolette la rivincita, anche per te che sensazione hai provato? Una giornata calda, è stato difficile giocare? Sì, siamo arrivati qua con la grinta di giocare, cerchiamo di continuare così, andiamo alle nazionali e cerchiamo di vincerle. Gian Piero, sei stato decisivo insieme agli altri, ma la tua battuta è anche a muro nei frangenti finale del terzo set, anche a te le tue sensazioni, anche tu eri tra i protagonisti dell'anno scorso della finale alla Mezzia, bello vincere dopo aver perso l'anno scorso? Chiaramente sì, è stato molto bello, avevo sete di vincere, era un trofeo molto ambito da me. Sì, abbiamo fatto una partita molto bella, sono contento di essere arrivato qui e spero di poter continuare andando avanti alle nazionali. Lorenzo, arrivato in prestito da Cetraro, come ti sei trovato con il gruppo, una bella vittoria anche per te? Io mi sono trovato molto bene con i miei compagni, abbiamo giocato bene e spero che vinceremo anche le nazionali. Salutiamo una persona che oggi qui non c'era e che avrebbe voluto esserci e che è a casa a letto influenzato, mister Tonino Chirumbolo. Vi salutiamo mister, abbiamo vinto anche per voi. Aguri, aguri tanto. Tanti auguri, è stato il giorno del vostro compleanno e a noi ci ha portato fortuna. Tanti auguri mister. Ciao ragazzi. Arrivederci. Grazie.